Quanta attesa al capolinea nord del tram? Per gli studenti e non solo che partono o vanno a Cadoneghe e Saletto, l'arrivo del tram a Ponte Vigo d'Arzare è coinciso con l'inizio del Calvario. Se prima potevano contare su due linee dell'autobus, il 4 e il 19, che li portavano diretti a destinazione, ora con i nuovi percorsi troncati al capolinea devono per forza cambiare mezzo, il che comporta lunghe attese alla fermata. Se c'è un tram ogni 7 minuti, gli autobus hanno invece mantenuto la vecchia frequenza ogni 20 minuti circa, con l'evidente disagio di chi è costretto ad aspettare spesso sotto pioggia e neve. Molti studenti perdono molto tempo soprattutto perché non riescono a trovare la corsa giusta del 4 qui e prima soprattutto era più comodo perché prendevamo un autobus da Cadoneghe e arrivavamo in centro all'Arcella subito senza dover cambiare qui al capolinea. Se per esempio uno arriva all'1 e 2 minuti aspetta fino all'1 e 20 che parta di nuovo il bus navetta. Gli orari sono un po' sfalsati quindi dovrebbero un po' sistemarsi. Alla difficoltà legata alle attese si aggiunge il disagio di chi deve raggiungere l'ospedale. Chi arriva da Cadoneghe e Saletto ed era abituato a non dover cambiare mezzo ora è costretto a fermarsi al capolinea nord, salire in tram fino alla stazione e prendere un altro autobus. Impossibile tarare la rete delle fermate tenendo conto della centralità ospedaliera dice Ivorossi che per rispondere alle proteste ha convocato un incontro con i sindaci Gastaldone e Frazzarin responsabili a loro volta delle esigenze dei cittadini e dei comuni di competenza. Obiettivo trovare una soluzione ad entrambe le problematiche. Uno intensificando le corse negli orari di punta, due prevedendo limitatamente ad alcune corse del 19 e del 4 una fermata in stazione e una in ospedale. Potremmo adottare una soluzione come abbiamo già adottato anche ad Albignaseo, quello 88, dove gli autobus che partono da Cadoneghe e da Vigo d'Arzare, alcune nella fascia oraria, alcuni autobus vanno direttamente in stazione oppure gli ospedali e questo verrebbe anche incontro a coloro che devono andare agli ospedali. Sono